Vitality Day, One Health, telemedicina e ambiente, questo è il tema del convegno che si è svolto a Chieta e all'Università d'Annunzio. Convegno che è servito a illustrare gli obiettivi e i primi risultati delle attività svolte nel progetto Vitality che coinvolge 7 dipartimenti e 36 docenti dell'Università d'Annunzio, oltre a 20 ricercatori reclutati con i fondi PNRR. L'obiettivo centrale del progetto è studiare soprattutto una delle malattie più diffuse, il diabete, mediante tecniche diagnostiche e attività di monitoraggio da remoto. L'Università Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara coordina lo SPOC4, la cui tematica principale è appunto One Health, telemedicina e salute, oltre agli affiliati dell'UDA, l'Università di Urbino e azienda Sinergo hanno partecipato all'incontro esponenti del mondo della sanità e non solo. Con due ricercatori di fama mondiale che hanno portato il loro contributo. Ascoltiamo il coordinatore del progetto, il professor Piero Di Carlo. Allora, è un'iniziativa che è venuta fuori due anni fa, quando abbiamo messo su questo progetto, insieme alla Governanza di Ateneo, tanti colleghi del nostro Ateneo, cioè andare a vedere come alcuni inquinanti atmosferici possono interferire con la salute umana, ma allo stesso tempo l'idea è stata anche quella di andare a studiare come alcune pratiche mediche, alcune pratiche che noi possiamo mettere in atto ogni giorno nella nostra vita, possono avere un effetto positivo sull'ambiente. Uno esempio fra tutti, per esempio, è l'alimentazione, cioè se noi utilizziamo più vegetali e meno animali, emettiamo meno CO2 e quindi c'è un effetto benefico, non solo per la nostra salute, ma anche per l'ambiente. Ecco, come l'ambiente influenza la nostra salute? Allora, su questo ci sono studi ormai ben consolidati che fanno vedere come alcuni inquinanti, il particolato, l'ozono, gli ossidi di azoto hanno un impatto enorme per quanto riguarda la demenza, per quanto riguarda problemi cardiorespiratori. Tutta la nostra vita in qualche modo è influenzata dai parametri ambientali. Cosa può fare ciascuno di noi? Noi possiamo contribuire con le nostre piccole azioni, come dicevo prima, per esempio con l'alimentazione, con i trasporti, quindi cercare di emettere il meno possibile. Dall'altra parte, e lo ribadisco, un punto importante è anche cercare di adottare delle tecniche che possono essere più sostenibili anche nello sviluppo della nostra ricerca, nelle attività cliniche, per far sì che anche quelle attività che sono fondamentali possano essere più sostenibili. Professore, si può dire che curare la nostra terra è curare noi stessi? Assolutamente sì, e ribadisco, curare noi stessi significa anche curare l'ambiente.